Lasciate che sia io ad emettere e a controllare il denaro di una nazione e non mi importerà più nulla di chi scrive le leggi. Salve a tutti, Marco Casario qui. In questo video vi racconterò la storia controversa della famiglia Rothschild e della sua ascesa nel sistema finanziario globale. Il nome Rothschild è un nome molto spesso associato a teorie del complotto. Più volte sono stati accusati di controllare segregamente l'economia, di finanziare guerre e anche di manipolare il clima, figuriamoci. Ma cerchiamo di fare chiarezza partendo dalla loro storia. La famiglia Rothschild iniziò la sua ascesa a partire dal XVIII secolo, quando Meyer Amschel fondò l'impero della famiglia. Nasce nel Ducato d'Assia nel 1744 a Francoforte, nel ghetto ebraico, figlio di un commerciante di seta e cambia valute. Ha iniziato a lavorare con il padre fin da giovanissimo, il suo primo compito fu quello di smistare monete rare che il padre acquistava dalle fiere. I suoi genitori morirono quando lui aveva appena 12 anni e subito dopo fu mandato ad Hannover, come apprendista della Simon Wolf Oppenheimer, un'importante banca ebraica. Nel 1763 tornò a Francoforte dove divenne commerciante di monete rare e ottenne il patrocinio dal principe Guglielmo d'Assia, che lo aiutò a sviluppare legami finanziari con altri nobili. Nel 1769 ottiene il titolo di fattore di corte, diventando così consigliere effettivo del principe che lo portò a conoscere la figlia di un altro fattore di corte, Guttlesch Napper. I due si sposano nel 1770 dando alla luce 10 figli, 5 maschi e 5 femmine. Durante questi anni si affermò come principale commerciante di Francoforte, non solo di monete rare ma anche di oggetti di antiquariato. L'impero crebbe ulteriormente con la rivoluzione francese quando a Mayer fu affidato il compito di gestire i pagamenti dalla Gran Bretagna per l'assunzione di soldati mercenari dell'Assia. Si stima che il suo patrimonio in quel momento si aggirasse intorno ai 150.000 fiorini, parliamo di circa 15.000 sterline. Pensate che la rivista Forbes lo ha classificato come il settimo uomo d'affari più influente di tutti i tempi. Agli inizi del 1800 i figli maschi vennero inviati come emissari nelle principali città d'Europa, con il primo genito che rimase però a Francoforte. Le fortune della famiglia arrivarono con le guerre napoleoniche, quando oltre a servire il principe fornirono servizi finanziari e prestiti alle potenze europee impegnate nella guerra contro Napoleone. Allo stesso tempo si dimostrarono anche in grado di sviluppare e di organizzare una efficientissima rete di agenti, spedizionieri e corrieri che attraverso tutta l'Europa distribuirono oro per gli armamenti. Nel 1812 Mayer muore e lascia disposizioni su come gestire le finanze delineando un rigido sistema di successione, dove l'eredità poteva passare solo per linea maschile. Questo incentivò i matrimoni misti. Pensate che tra il 1824 e il 1877 ci furono 36 matrimoni dei discendenti maschi di Mayer-Roshield. Di questi, 30 all'interno della famiglia. Solo quattro torne Roshield e due uomini sposarono partner a cui non erano imparentati. Intanto, Nathan Mayer nel 1810 aveva fondato la NM Rothschild, banca che ancora oggi è in funzione con più di 40 sedi in tutto il mondo. Esiste una leggenda dove si dice che Nathan fosse a conoscenza della sconfitta di Napoleone a Waterloo un giorno prima rispetto agli organi governativi. Si racconta che l'avrebbe fatto con un'operazione che ora chiameremo di insider trading, cioè diffondendo la voce che a Waterloo avesse vinto Napoleone. Iniziò e iniziando lui stesso a vendere i titoli del debito pubblico inglese in suo possesso per provocarne il crollo in borsa. Nel frattempo, in gran segreto, avrebbe ordinato ai suoi oggetti di ricomprarli a prezzi stracciati prima che la notizia della vittoria si diffondesse e che quindi il valore di quei titoli andasse alle stelle. Il figlio inviato a Vienna, Salomon Rothschild, finanziò il debito austriaco e nel 1822 entrò a far parte della nobiltà austriaca quando l'imperatore Francesco I gli conferì il titolo di barone. Nonostante lavorassero a distanza, i cinque fratelli operavano nello stesso modo, sui titoli di stato, cambi valutari e metalli preziosi. Prestavano anche denaro alle nazioni con alti tassi di interesse. Il simbolo della famiglia sono le cinque frecce all'interno di uno scudo che si intersecano in un unico punto. La famiglia intervenne prestando denaro e oro alla Banca d'Inghilterra in seguito alla crisi finanziaria del 1825, chiamata anche dagli storici la prima grande, vera crisi finanziaria moderna. Fecero numerosi investimenti nel settore pubblico, finanziarono le reti ferroviarie in Austria, Francia, Italia e del canale di Suez. Nel 1935 Nathan si assicurò i diritti sulle miniere di mercurio in Spagna, ottenendo praticamente un monopolio sull'elemento chimico fondamentale per l'estrazione di oro e argento. Pensate che la banca ha ospitato e presieduto il fixing mondiale del prezzo dell'oro dal 1919 al 2014. La famiglia Rothschild ha anche finanziato l'unità d'Italia. Quando il regno di Sardegna nel 1849 venne sconfitto nella prima guerra di indipendenza, accumulò 75 milioni di lire di debito nei confronti degli austriaci. Fu allora che i banchieri videro un'opportunità e offrirono un prestito immediato con tassi di interesse al 5%. Nel 1860 il debito pubblico del Piemonte ammontava circa un milione e mezzo di lire, il più alto tra tutti gli stati. Tra l'altro ho fatto un video dove parlo del debito pubblico italiano partendo dalla sua nascita, lo trovi qui nel mio canale. L'unico modo per il regno di salvarsi era quello di andare di nuovo in guerra contro lo Stato borbonico, in modo da poter mettere le mani sul loro patrimonio in caso di vittoria. Quindi lo Stato per finanziare la guerra non aveva altra scelta se non quella di chiedere aiuto finanziario a Rothschild. Nonostante la sua iniziale riluttanza a finanziare la guerra contro il proprio Stato, alla fine la famiglia accettò di rinegoziare il debito precedente e di fornire il denaro richiesto, poiché questo avrebbe comportato un aumento del loro potere e influenza sul futuro Stato italiano. Sappiamo tutti poi com'è andata a finire. La filiale di Napoli della banca, chiuse nel 1863 la mancanza di eredi maschi, portò alla chiusura della filiale di Francoforte nel 1901. Dal ventesimo secolo inizia la decadenza della famiglia. La loro opposizione iniziò a declinare con lo scoppio dei due conflitti mondiali. Le restrizioni sui movimenti di capitali tra gli Stati, durante questo periodo soprattutto, limitarono la capacità delle banche di concedere prestiti alle nazioni impegnate nel conflitto, cosa che in realtà in passato li aveva invece arricchiti enormemente. Il governo di Vichy in Francia espropriò le proprietà dei Rothschild a Bordeaux durante la guerra e i nazisti confiscarono opere d'arte ed altri oggetti preziosi per milioni di dollari dal ramo austriaco della famiglia. Nel corso degli anni le suntuose proprietà dei Rothschild furono donate ai governi britannico, al governo francese e ad altre organizzazioni ed università. Infine, molti membri della famiglia dei Rothschild furono perseguitati dai nazisti durante la guerra e furono costretti ad emigrare negli Stati Uniti, spostando il loro centro di affari lì. Negli anni 70 rimasero tre banche Rothschild, le filiali di Londra e Parigi ed una banca svizzera fondata da Edmund Adolf dei Rothschild. Ma veniamo ai giorni nostri. Con un patrimonio ed una scala d'affari assai più contenuti, si sono comunque affacciati nel mondo dei grandi finanzieri. Non si hanno stime precise sul loro patrimonio, poiché gran parte delle loro attività sono gestite attraverso una serie di trust che non devono necessariamente rendere pubbliche le loro attività. Sono comunque ancora molto attivi nell'ambito bancario e finanziario, con una serie di banche e società di investimenti. Si conoscono sostanzialmente due gruppi, quelle che fanno capo alle Edmund Rothschild Group e quelle che fanno capo alla Rothschild & Company. Il gruppo Edmund Rothschild è un gruppo bancario di gestione patrimoniale di proprietà private fondate appunto dal Varone nel 1953 con sede a Ginevra, mentre la Rothschild & Co. è una società di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale. Le radici dell'attuale struttura di Rothschild & Co. risalgono ad una fusione nel 2012 tra la loro banca francese separata e la banca d'affari britannica NM Rothschild & Sons. È conosciuta da tutti per la sua divisione di affari che fino al 2014 vedeva impiegato il presidente francese Emmanuel Macron. Sì, proprio lui. Alexander Rothschild, che ora guida il gruppo, ha annunciato l'intenzione di presentare un'OPA ai fini del ritiro dal listino di Parigi. Concordia, la holding della famiglia e principale azionista della banca, ha presentato un'offerta pubblica di acquisto al prezzo di 48 euro per azione, dividendo annesso. Il giorno dell'annuncio il titolo ha guadagnato il più 16%. La banca ha fatto parte di alcuni dei più grandi affari in Europa negli ultimi anni, tra cui la IPO di Porsche da parte della Volkswagen, o ad esempio la nazionalizzazione del gruppo energetico tedesco Uniper e la combinazione degli operatori satellitari Eutelsat e OneWeb. Nel terzo trimestre del 2022 ha registrato un aumento delle entrate per circa 864 milioni di euro, mentre i ricavi per consulenza globale sono aumentati del 18% anno su anno. La famiglia Rothschild è sicuramente stata, come abbiamo visto, una famiglia che negli ultimi tre secoli ha influenzato il panorama economico-sociale mondiale. Hanno ricevuto molte critiche e sono stati accusati di teorie complottistiche. Molte di queste accuse si sono ovviamente rivelate prive di fondamenta e derivanti da pregiudizi culturali. Quello che possiamo dire è che un fondo di verità probabilmente ci può essere, come in tutte le cose del resto. Bisogna comunque dimostrare una visione critica e ricordarsi che è importante distinguere tra teorie del complotto e fatti storici realmente accaduti. Bene, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la partecipazione. Fino alla fine lasciatemi un commento, mettetemi un like e iscrivetevi al canale. Per me questi sono gli unici modi per capire quanto questi contenuti sono da voi apprezzati. Noi ci vediamo tutti i giorni in diretta alle 13.30 sul mio canale YouTube e ci vediamo tutti i giorni per le mie analisi e i grafici che vi condivido sul canale Telegram. Trovate tutto quanto nel campo descrizione sotto questo video. Grazie mille per l'attenzione. Buon trading a tutti. Ciao.